... Mezza Ancona bloccata per un falso allarme bomba, chiusi Piazza Don Minzoni e Corso Amendola insieme a Via Maratta. Gli artificieri hanno fatto esplodere la valigia incriminata, ma all'interno non c'erano ordigni. Un anno da commissario alla ricostruzione, il bilancio del senatore Guido Castelli, tra traguardi raggiunti e nuovi obiettivi. Intanto via libera una nuova struttura a Ripe San Ginesio. Furto di animali problematici alla fattoria dei sogni di Iesi, la titolare Selena Batelli, pago pur di riaverli, prese due pecore malate, pappagalli con spalle rotte, difficoltà neurologiche con cui si faceva terapia con i ragazzi disabili. L'Ascoli va in bianco con la Reggiana, a metà ripresa espulso Viviano, debutta Vasquez che salva il risultato. Samb, pari e fischi, lauro in bilico dopo l'1-1 con il Monte Rotondo, l'Atletico e Spugna Senigallia. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro Tg Mark. In apertura la pagina di Cronac, perché è stato un pomeriggio movimentato nel cuore di Ancona per un falso allarme bomba. Sentiamo come è andata. Scene da film, nel pomeriggio invia Don Giovanni Minzoni per una valigia blu di grosse dimensioni, abbandonata su una panchina in pieno centro. Il borsone era già stato notato nella serata di sabato da alcuni passanti, che poi, vedendo che di domenica era ancora lì, avevano allertato le forze dell'ordine. Sul posto, quattro auto dei carabinieri, vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Gialla, insieme al furgoncino degli artificieri che si sono subito mossi per le prime rilevazioni di routine. Per tre ore, dalle 14.15 circa fino alle 17.15, sono state chiuse al traffico non solo Piazza Don Minzoni, ma anche Corso a Mendola e Via Maratta. Tutti i residenti sono stati invitati a rimanere in casa e a non affacciarsi dalla finestra. Attorno alle 17, la valigia è stata fatta esplodere dagli artificieri con un boato che è stato udito nella zona transennata. Quindi tutto è tornato alla normalità e l'allarme bomba è rientrato. Un pomeriggio con scene da film americano, ma finito, per fortuna, nel migliore dei modi. Doppia emergenza sabato sera al Torrette di Ancona. Un uomo ha dato in escandescenze in psichiatria e un altro si è buttato dalla finestra medicina. Sentiamo. Sabato sera di panico al Torrette di Ancona. Nel giro di un'ora si sono susseguite due emergenze di diversa natura. La prima ha avuto luogo nel reparto di psichiatria, dove un paziente ha improvvisamente dato in escandescenze, perdendo il controllo e aggredendo altri degenti, nonché il personale sanitario. L'episodio ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei medici per sedare l'uomo e mettere al sicuro gli altri pazienti e il personale. Poco dopo, una seconda emergenza ha interessato il reparto di medicina generale. Un settantenne, residente a Loreto e ricoverato per una patologia cronica, ha manifestato il desiderio di andarsene a casa. Senza dare alcun preavviso, si è alzato dal letto, si è affacciato dalla finestra del secondo piano e si è lanciato nel vuoto. Fortunatamente, il suo volo di circa 5 metri ha avuto come paracadute la tettoia di un tunnel del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale Salesi, permettendo così di attenuare l'impatto e di evitare conseguenze più gravi. L'uomo è rimasto incastrato tra l'edificio e il tunnel, ma è cosciente, nonostante il dolore. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi, compresi i carabinieri della radiomobile di Ancona e i vigili del fuoco, per liberare l'uomo e fornirgli le prime cure mediche, sebbene abbia riportato delle scoriazioni alle ginocchia, non sembrano esserci gravi traumi, ma è stato comunque necessario un nuovo ricovero per accertare ulteriori problemi. Al momento non è chiaro se il settantenne cercasse di fuggire dal reparto se stesse tentando un gesto estremo in un momento di disperazione. Due episodi che mettono in evidenza la delicatezza delle situazioni che si possono verificare all'interno di un ospedale e l'importanza della prontezza di intervento del personale sanitario e delle forze dell'ordine per gestire situazioni di emergenza e garantire la sicurezza di pazienti e operatori. Senza contare che nella mattina, nella zona ambulatori, le infermiere si sono dovute difendere dall'ennesima aggressione verbale, sedata facendo comprendere al paziente che ritardi possono registrarsi e che bisogna farlo presente alla direzione, senza insultare o usare parole improprie nei confronti del personale infermieristico o medico. Paura in mattinata al campo sportivo di Piattoni nella zona alta di Castel di Lama. Siamo nel Piceno, nel corso di una partita di calcio. Un ragazzo di 14 anni è stato colpito al capo da una ginocchiata. Dopo lo scontro di gioco ha provato a rientrare in campo ma si è sentito di nuovo male e ha preso a vomitare da qui i soccorsi e anche l'arrivo dell'eliambulanza per trasportarlo al Torrette di Ancona. Al momento le sue condizioni non desterebbero grosse preoccupazioni. E ora siamo a Porto San Giorgio, caos in un bar dove un albanese visibilmente ubriaco ha dato in escandescenze l'uomo residente in città e il lavoratore su un peschereccio ha parcheggiato la sua auto su Via Gentili e poi è entrato all'interno del caffè. Qui ha iniziato a discutere animatamente con il titolare, con alcuni avventori, è venuto alle mani anche con un giovane. Poi è uscito dalla stessa attività per andare a riprendere la sua auto, tutto questo visibilmente ubriaco. La vettura non partiva e così si è scagliato sulle altre auto in sosta. A questo punto il titolare del bar ha contattato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. L'uomo ha cercato di reagire anche ai militari con calci e sputi. Alla fine è stato bloccato e arrestato. E ora una nostra intervista all'amministratore delegato dell'aeroporto favorevole al prolungamento della tratta ferroviaria Ascoli-Ancona fino a Iesi Fabriano. Alex Dorsogna sottolinea siamo parte attiva in un percorso che deve unire l'area sud delle Marche. Sulla questione voli di continuità domani lunedì sarà un giorno cruciale. L'amministratore delegato dell'aeroporto di Ancona è da sempre favorevole allo sviluppo dell'intermodalità e per questa ragione sostiene il prolungamento della tratta ferroviaria Ascoli-Ancona centrale fino a Iesi Fabriano in modo da collegare direttamente l'aeroporto d'Orico con le città turistiche marittime marchigiane senza dover scendere e fare cambio alla stazione di Ancona centrale. Noi siamo sempre stati favorevoli a tutto ciò che riguarda l'intermodalità anche perché chiaramente ne viene avvantaggio dello stesso traffico aeroportuale da un lato e dal lato stimola dall'altra parte la possibilità e dal lato commerciale di stimolare le compagnie aeree a incrementare i voli sull'aeroporto di Falconare. Ma concretamente per arrivare a questo risultato cosa bisogna fare? Noi siamo uno stakeholder quindi evidentemente da parte nostra abbiamo già qualche mese fa interlocuito con Trenitalia per quando concerne gli stop all'aeroporto di Falconare che ricordo a partire dal luglio del 2023 da 10 fermate giornaliere sono diventate 30 e questo è già un grande risultato perché evidentemente conferma la centralità dell'aeroporto di Ancona come fulcro per i traffici turistici e di business della regione Marche. Dall'altra parte evidentemente abbiamo anche cercato di interlocuire con tutte quelle associazioni che sono portatrici di questi bisogni e siamo parte attiva in questo percorso che ci deve portare evidentemente a unire anche l'area sud delle Marche in modo tale che possano raggiungere facilmente l'aeroporto. Si tratterebbe di una opportunità strategica in vista della sempre più vicina apertura dell'Hub Amazon in costruzione a breve distanza appena 6 km dall'aeroporto di Ancona. Dorsogna torna poi ad analizzare la questione dei voli di continuità in attesa di notizie importanti previste ad ore. Siamo in una situazione di attesa, ENAC ha chiamato il giorno, il venerdì scorso una procedura di urgenza per fare in modo di recuperare di interesse di altri operatori capaci di operare questi voli su Milano, Roma e Napoli e questa procedura di urgenza scade lunedì prossimo, 4 marzo alle ore 12 e speriamo, ci auguriamo, che ci sia una continuità di questo servizio pubblico fondamentale per l'aeroporto ma chiaramente per tutta la regione. Dai fondi erogati per la ricostruzione privata a quelli destinati alla pubblica passando per il super bonus e tanti altri interventi attuati negli ultimi 12 mesi. A poco più di un anno dalla sua nomina il commissario alla ricostruzione Guido Castelli fa il punto della situazione. Sentiamo. Lavorare per la ricostruzione e la rinascita dei territori dell'Appennino colpiti dal terremoto del 2016. Era questo l'obiettivo che si era posto il commissario Guido Castelli, il quale a poco più di un anno dalla sua nomina ha voluto fare il punto sui risultati raggiunti attraverso un video che ripercorre le tappe principali di questi ultimi 12 mesi grazie a un bel lavoro di squadra con i quattro governatori delle regioni coinvolte e i 138 sindaci dei comuni del cratere. Solo nel 2023 sono stati liquidati un miliardo e 300 milioni per la ricostruzione privata, più 37% rispetto al 2022 e più 73% rispetto al 2021. Proprio la ricostruzione privata è stata data priorità per riportare i cittadini nelle loro case e il superbonus 110 per tutta l'area del territorio colpita dal sisma è stato garantito fino al 31 12 del 2025. Per la ricostruzione pubblica sono stati stanziati complessivamente quasi 4 miliardi che andranno a finanziare oltre 3.200 interventi. Solo nel 2023 per le quattro regioni sono state finanziate mille opere per quasi un miliardo di euro. Tra queste, per l'oltre l'80% abbiamo già avviato le procedure di progettazione. Ebbene, nel 2023 sono stati stanziati oltre 500 milioni di euro per oltre 1.400 progetti, finanziati con particolare riguardo alle microimprese, ai progetti di investimento innovativi, terzo settore e nuovi modelli di economia circolare. Si lavora per un territorio più sicuro, più sostenibile e connesso nell'ottica di una rigenerazione che attraverso la ricostruzione sappia contrastare la crisi demografica. Nel grande lavoro di riprogettazione del futuro c'è bisogno di individuare delle direttrici di sviluppo. Il digitale, le scuole, le strade e l'energia per costruire un appennino contemporaneo. Intensificare la connettività, velocizzare la digitalizzazione dei processi e sviluppare un sistema di monitoraggio avanzato dei territori renderà il cratere più sicuro e più connesso. Nel 2023 si sono sbloccate progettualità per 168 milioni nell'innovazione digitale con l'intesa e la volontà di rendere l'appennino centrale attrattivo per nuovi investimenti che generino posti di lavoro. Ricostruire le scuole affinché i giovani possano crescere e studiare in sicurezza. Per questo è stato sbloccato l'accordo quadro relativo a 228 interventi di edilizia scolastica per un valore di quasi 900 milioni di euro. Con 62 milioni stanziati per i centri di ricerca universitari è chiaro l'intento di fondare sulla ricerca scientifica e sull'innovazione lo sviluppo di territori carichi di tradizioni e proiettati nel futuro. La rinascita passa anche per una nuova strategia di accessibilità al cratere superare l'isolamento e grazie al piano per lo sviluppo delle infrastrutture stradali con lavori avviati nel 2023 per un miliardo e cento milioni di euro questa prospettiva sta diventando realtà. E in tema di ricostruzione post terremoto una struttura nuova polifunzionale sismicamente efficiente priva di barriere architettoniche sorgerà a ripessanginesio sono stati stanziati infatti altri 600 mila euro sul totale di un milione e otto proprio dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli per questo nuovo polo questo nuovo centro di ripessanginesio ospiterà l'archivio storico il deposito comunale e spazi per associazioni lo stesso Castelli ha dichiarato nel ricostruire il nostro patrimonio edilizio abbiamo il dovere di rifunzionalizzare edifici e spazi per adattarli alle esigenze del presente e del prossimo futuro è tornata intanto al suo antico splendore affermo la Madonna in gloria fra San Romualdo e Santa Scolastica grazie all'abilità della restauratrice Francesca Scenzi e al sostegno ovviamente di alcuni privati sentiamo Donatella Lappa un restauro aperto e una donna per una donna sono gli elementi distintivi dell'operazione che ha riportato a splendere la pala d'altare settecentesca della Madonna in gloria fra San Romualdo e Santa Scolastica di Lucia Ricci una cerimonia nella sala del 600 della Pinacoteca di Fermo a Palazzo dei Priori per presentare l'opera che proviene dal monastero San Giuliano e che presto troverà stabile collocazione nella sala gialla dello stesso palazzo a maggio quando terminerà la mostra su Ligabue e Pende a restituire l'opera alla città e ai visitatori è stata la restauratrice Francesca Scenzi è un valore storico e soprattutto simbolico perché è un'opera che è stata eseguita da una donna una pittrice donna che nel fine seicento primi settecento ha avuto la possibilità di esprimere la sua creatività è appunto un'opera di Lucia Ricci figlia di Ubaldo Ricci della famosa famiglia numerosa di pittori che avevano una bottega estremamente prolifica Lucia era una suora benedettina che però non viveva in convento e quindi libera dalle necessità religiose e non essendosi sposata dalle obblighi matrimoniali si è potuta dedicare interamente alla pittura Il lavoro di recupero dell'opera da parte di Francesca Scenzi si è svolto sotto gli occhi dei visitatori al piano primo di Palazzo dei Priori che passo dopo passo l'hanno vista riportare la pala d'altare di Lucia Ricci al suo pregio originario togliendo quel velo del tempo che la offuscava Quest'opera presentava un notevole strato di sporco che è stato tolto con l'utilizzo di una miscela di solventi individuata specificamente è stato poi stuccato solo ed esclusivamente nelle lacune cioè le perdite di colore del dipinto e poi ritoccato per rendere far ritornare fruibile e leggibile l'opera d'arte Crollo di un tetto stamattina alle 11 a Porto Sant'Elpidio nella parte nord del Borgo Marinaro a dover essere evacuati dal caseggiato danneggiato fortunatamente senza restarne feriti sono stati un uomo e l'anziana madre inferma sul posto si è subito recato l'assessore alla sicurezza Enzo Farina che con i vigili del fuoco ha atteso l'ambulanza per il trasporto della signora Farina si sta adoperando per trovare una soluzione e una sistemazione per la famiglia rimasta senza abitazione e sono quattro i tratti della sopraelevata di San Benedetto del Tronto interessati da lavori di risanamento predisposti dalla provincia proseguiranno fino al mese di novembre facciamo il punto nel servizio proseguiranno fino alla fine di novembre i lavori di manutenzione del raccordo autostralare tra Ascoli e Portodascoli ed in particolare per quanto riguarda la sopraelevata di San Benedetto l'opera che si era resa necessaria per evitare pericoli per gli automobilisti e cittadini a causa di eventuali distacchi di pezzi di cemento armato dai piloni e dalle piattaforme della strada rientra nel programma triennale 2021-2023 proposti dalla provincia di Ascoli e prevede interventi di risanamento del calcestruzzo con l'asportazione di quello ammalorato quattro sono i tratti che sono stati individuati e considerati prioritari il tratto su via Mare via del Cacciatore quello su via Pasubio quello su via Scarlatti e quello di Viale dello Sport da pochi giorni è stato completato l'intervento che ha riguardato via Scarlatti e per poter consentire i lavori in sicurezza per questo e per ciascuno dei tratti interessati dai lavori di risanamento è stata prevista la chiusura delle strade e in accordo con l'amministrazione comunale di San Benedetto con la polizia locale di volta in volta sono stati predisposti percorsi alternativi sebbene questo non evitino disagi per gli automobilisti e residenti la soprelevare è un intervento di messa in sicurezza questa arteria è molto trafficata e questi viadotti con il tempo e con la salzedine hanno degli ammaloramenti nella parte diciamo inferiore questo ci ha portato a fare un investimento di 1.740.000 euro per la messa in sicurezza di quelle parti che sono sotto insomma che sono transitate dai cittadini di San Benedetto è un intervento che ha delle interferenze sulla vita dei cittadini che verranno messe in azione step by step in modo da non creare un unico cantiere che sia di intralcio alla vita delle persone che queste strade che sono state di collegamento principale di San Benedetto vivono e interessano per la vita quotidiana e allo stesso tempo ci stiamo rapportando con Ferrovie dello Stato per effettuare dei lavori limitando l'impatto su quello che è il traffico dei treni sulla tratta i lavori sono stati consegnati a novembre del 2023 e proseguiranno anche nei prossimi paesi ma il cronoprogramma predisposto dall'amministrazione provinciale prevede un'attenzione particolare nel periodo estivo il cronoprogramma attualmente quello diciamo che è ufficiale riguarda un tempo massimo per la ditta che ha cominciato a lavorare l'11 novembre a cui abbiamo insomma assegnato i lavori di un anno di lavori però posso anche dire che per come si stanno sviluppando le attività abbiamo un riscontro molto positivo naturalmente parametriremo la nostra attività in base alle esigenze che il territorio ci chiede quindi sulla stagione estiva sicuramente avremo qualche rallentamento a causa del numero delle persone che vivono San Benedetto che raddoppio triplica quindi ci saranno dei momenti che l'opera dovrà rallentare questo non fermerà i lavori di chi si sta attivando ma sarà un'attenzione a chi vive la città e ad Ascoli la Quintana scende in campo per la prevenzione dei tumori sentiamo visite ed esami gratuiti conferenze e una mostra fotografica il mondo della Quintana scende in campo ancora una volta per sensibilizzare la popolazione in merito alla lotta ai tumori si rinnova infatti l'iniziativa il sociale nel segno della tradizione giunta la terza edizione promossa dai sestieri di Porta Solestà e Sant'Emidio con i castelli di Venarotta e Montegallo le Lilt di Ascoli e Siena e l'associazione Prenditi Cura di Te grazie a Tino a Tanzi e al capo sestieri di Sant'Emidio Gasparrini tre anni fa abbiamo raccolto una grande sfida quella di attivare un percorso di prevenzione sia con gli esami sia sensibilizzare la prevenzione di uno stile di vita sano per migliorare la qualità della vita tre anni fa ho chiesto a loro di portare questo progetto allargarlo e oggi siamo qui ad annunciare il coinvolgimento di due castelli Pinarotta e Montegallo e quindi questo progetto diventa più grande Emozionati i due capi sestieri Attilio Lattanzi di Porta Solestà e Mariangela Gasparrini di Sant'Emidio promotori del progetto È un progetto nato nel 2022 grazie al coinvolgimento di alcune persone ammigare fra cui il priore del rione Giotti Alfredo Doni e il priore del rione Cassero Fabio Serafini quindi in quell'occasione buttiamo le basi per far capire cosa arrivano i contrari sestieri nelle relative città rappresentano nell'ambito del terzo settore e di tutto quello che riguarda l'aspetto sociale dei veri e propri punti di riferimento siamo a 360 gradi Sì è la terza edizione di un progetto ambizioso e importante che ogni anno cresce grazie appunto alla collaborazione di due sestieri grazie alla fondazione grazie all'amministrazione comunale il primo appuntamento ci sarà il 16 marzo quando il dottor Delia responsabile del comparto ecografico della Lilt di Siena effettuerà visite e controlli ecografici gastroenterologici gratuiti al sestiere di Porta Solestà il 13 aprile nell'area archeologica del Palazzo dei Capitani sarà inaugurata la mostra cicatrici rivelate una raccolta di suggestive fotografie con modelle donne che hanno accettato di mostrare i segni che portano sui loro corpi causati sia da interventi chirurgici che da incidenti il 20 aprile ci si sposterà a Montegallo il senologo Andrea Stella dedicherà la giornata ai controlli per la prevenzione del tumore al seno questa credo che sia un'ottima opportunità per ricreare anche un po' il senso di comunità e comunque è una grossa opportunità che diamo a 40 nostre concittadine di poter effettuare uno screening di prevenzione per quanto riguarda la lotta al tumore al seno l'ultimo appuntamento si svolgerà l'11 maggio a Venarotta dove il neurochirurgo Sandro Carletti terrà una conferenza sul mal di testa spiegando quando preoccuparsi e come approfondire con appositi esami tutte le iniziative ovviamente sono gratuite Un incredibile furto alla fattoria dei sogni di Iesi rubati animali problematici la titolare dice sono disposta a pagare pur di riaverli indietro La fattoria dei sogni è un luogo didattico dove i ragazzi diversamente abili possono dedicarsi ad attività terapeutiche in natura e a stretto contatto con gli animali che Selena Batelli e sua madre regina hanno salvato dal macello Tutti gli animali presenti in questo ambiente ricco di fascino ed amore presentano disabilità e per questa ragione non hanno valore commerciale eppure c'è chi ha pensato bene di entrare di notte nella fattoria e dopo aver devastato le stanze di portare via il pappagallo a mazzo nel sole che ha una spalla rotta tutte le calopsite pappagalline della famiglia di Cacatuidi che hanno problemi neurologici e fisici e le due pecore macchia e neve dolcissime da sempre allevate con il biberonne e fondamentali protagoniste quotidiane dell'attività con i ragazzi disabili che frequentano la struttura prima di agire i ladri hanno stordito con qualche sostanza i due cani maremani al punto che ancora non si sono ripresi dallo shock da come si stanno comportando probabilmente gli hanno lanciato da fuori qualcosa da mangiare hanno aspettato un pochino il tempo che loro si stordissero perché loro sono buonissimi soltanto se ci siamo noi abbiamo già testato la prova di far avvicinare qualcuno con noi nelle vicinanze ma senza farci vedere e quindi adesso non si fidano più no anche sul mangiare adesso visto stiamo notando che quando gli do da mangiare mentre prima erano grandi divoratori adesso annusano studiano soltanto cambiati anche sul mangiare Selena è disperata e si dichiara addirittura disponibile a pagare pur di riavere i suoi animali problematici non valgono niente ma noi siamo disposti a pagarli pur di riaverli non valgono veramente un euro però noi siamo disposti a pagare a chiunque ci le riporti anche in modo anonimo siamo disposti veramente a tutto siete disperati per quello che è successo sì anche perché fondamentalmente questi animali servivano come terapia per i ragazzi disabili sì i ragazzi stavano tanto soprattutto con le pecore che nel momento dell'arte terapia era il momento del gioco del rubare i pennelli i pennarelli stavano sempre con loro i ladri che si sono serviti del trasportino dei gatti hanno rubato anche una gabbia ma soprattutto dopo questo gesto hanno reso tutto più difficile con i cavalli e tutti gli animali da cortile che percepiscono quanto accaduto dal furto è scattata una incredibile solidarietà verso Selena e Regina vorrei approfittare di questo per ringraziare tutte e tutte le persone che ci stanno vicino persone che magari nemmeno mi sarei mai aspettata perché ci stanno dimostrando tanto affetto tanta solidarietà tanta vicinanza e questo per me e per mamma in questo momento è proprio fondamentale quindi veramente grazie 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 a tutti ma anche a voi comunque che ci state dando la voce che ci state comunque aiutando che ci state in qualche modo dando la possibilità di far conoscere questa brutta esperienza e far sì che se qualcuno sa qualcosa ci aiuti veramente grazie singolarmente ad uno per uno che ci state accanto grazie Selena ha sporto denunce ai carabinieri ed è disponibile anche a ritirarla pur di riavere i suoi amati animali anche noi proviamo ad appellarci a chi probabilmente ha agito senza sapere che non è possibile fare facili guadagni con queste pecore e con questi pappagalli sottratti fate un gesto d'amore riportando gli animali fatelo per Selena e Regina fatelo per i ragazzi disabili fatelo per tutti gli ospiti della Fattoria dei Sogni e il nostro Tg Marche prima parte della nostra pagina informativa si chiude qui qualche secondo e ci ritroveremo insieme con il Tg Sport